bella a tutti ragazzi e porca vacca benvenuti siamo ragazzi su lunch lady ho deciso di riportare un po' di horror in quest'estate un po' di horror, un po' un po' scary, un po' old style single player, allora non ho visto ancora niente se non un paio di screen che mi hanno abbastanza inquietato, ho detto no vabbè sta roba la devo fare ah ti puoi scegliere il play, madonna belli, sembrano i personaggi di house party è orribile questa cosa, poi stanno tutti così teoricamente si potrebbe giocare addirittura online, difficolti normal, va bene ruba 10 pagine per le risposte ai risultati dell'esame, sembro io e la patente non l'ho fatta così, attenzione drinks pronto siamo in America, vabbè questa cosa è molto ok comunque lunch lady favij picked up a medkit come on, come on baby vedete sono in una scuola di notte, è una bellissima sta roba attenzione ho trovato la pagina delle risposte finali va bene non si torna indietro, ho sbaccato l'achievement va bene santo di dio cos'è quella roba chiuri la porta ahah porca troia no vabbè ragazzi ma cos'è sta roba oh con una padella ce l'ho chiamato ho trovato una chiave arrivederci ma cos'è che devo fare aiuto non capisco chi usa la porta chiave apri questo ma che gioco è devo capire da dove esce per poi uscire io dall'altra parte però il problema è che non capisco non capisco dove dovrebbe andare la tizia perché non come faccio a prevedere le sue mosse medkit ah ce l'ho già va bene solo uno posso averne va bene e altre pa- ne ho trovata una su dieci un punteggio un po' di merda cioè nel senso almeno una in più che cacchio sento veramente passi e la cosa non mi piace per niente ci provo arrivederci che ro ho tratto l'altra pagina ho tratto l'altra pagina let's go let's go let's go let's go let's go cazzo no vabbè ragazzi non si c'è nel senso ma muoviti ma vai da qualche parte fai qualcosa come non uso il medkit forse l'ho drillata attenzione attenzione il dribbling il dribbling del favi che non trovo altre pagine però rimaniamo così che poi sono difficili da vedere quello è il fatto io sono stato un'ora in una stanza l'ho vista dopo un'ora comunque non riesco ad aprire le porte mangiato pesante non è tanto ah ma guarda che poi c'è una scala aaa ma allora dillo e dillo che siamo su 26 piani di scuola che ne so io ma poi di notte c'è nel senso ma chi è una oh la sala di musica comunque non so dove trovate altre pagine ragazzi sto girando da un'ora e mezza le pagine di musica canzoni di michael jackson mai rilasciate queste sono oh una chiave ho trovato quante cazze chiavi ci sono in sto gioco ci ho trovato due chiavi una chiave n e la chiave c se facciamo tutto l'alfabeto di chiavi ce ne sono ancora un po' da trovare mi sa però se lei sta di sotto non sta di sotto questo stavo dicendo eeeh quindi dipende dove prendo le pagine qui cambia piano la zia mi fa piacere posso non di qua non di qua non di qua ci facciamo una cantata io e te high school musical come troia e gabriella madonna ragazzi c'è veramente la roba più brutta che io abbia mai visto di qua sta porta sta porta non so neanche dove stiamo andando let's go con le pagine però attenzione il problema grosso è che adesso mi sono incastrato in sto angolo e per tornare indietro bella incazzata la zia cos'è che fai che che madonna ogni volta è fatto verso sembra un suino ogni volta è fatto verso porca macchia dall'altra parte corri aiuto non c'era niente qua perché ci sono perché sono venuto di qua madonna che ansia e le padelle te le lanci del culo forse la porta là in fondo è accessibile dalle scale di sopra no attenzione però l'ho aperta ok mancano sei pagine ragazzi un sacco cioè ma porca vacca sei preoccupato hai bisogno di parlare no 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 per carità me la sto passando da dio non vedo quali problemi dovrei avere a frequentare questa scuola non ne vedo neanche uno di problema tutto a posto chi ti dice che sei un preoccupato entra qua dentro e chiudi la porta e poi muori no non è vero porca troia mi ha colpito la padella aiuto non ci credo non mi ha visto quanto rincoglionita da uno a un milione questo non ho trovato neanche una faccia e qua non c'è neanche una pagina attenzione però c'è una porta che non avevo visto bella pulita la cucina caffè machine caffè machine oh che bello non che io apprezzassi così tanto il cibo della mensa scolastica però però c'è un limite comunque comunque e fatelo tu porca troia no vabbè ragazzi è velocissima è velocissima ma di che pari ha tirato un pugno alla colonna ma che fa questa colonna me ne vado me ne vado sono cinque pagine e sto morendo no vabbè non ci credo che cazzo è ma cosa ma dove c'è anche la ma quante cacchio di mappe esistono c'è impossibile cioè raga è la stessa mappa è uguale è quella di prima è la stessa mappa ma che mai le altre cinque pagine dove stavano esattamente c'è qualcosa che non mi torna in questo gioco a uno poi tra l'altro correggetemi se sbaglio più vai avanti più è difficile nel senso più sta tipa corre che la metà basta o no vado di sopra madonna che schifo proprio cagati addosso a sto punto non lo so beh per quanto mi riguarda puoi anche prendere cinque al sei all'esame non è che di per forza capito cioè nel senso calmati ma ciao cazzo la caffeteria chi sta lì sotto sta lì sotto apposta apposta apposto un tre ok vamo Umberto per la quarta pagina che non ne sta chi e dove oh guarda c'è un'altra porta qua l'avevo già vista quarta pagina attenzione proprio lui proprio lui una sega che la tipa sta qua fuori però non entra certo che una pagina in cucina la vedo dura però vabbè eccola qua invece perfetto cinque dieci attenzione eccola qui sei dieci aiuto porca troia eh la zia la zia la zia fate cazzo tu madonna sei dieci lo chiudono oddio benedetto l'ho chiuso la porta faccio il giro madonna come ho fatto come ho fatto a scappare non lo so mancano quattro pagine se la matematica l'ho studiata quindi piscina non so come farò arrivare in piscina ma vabbè dove cacchio sta la roba l'altra pagina sette di dieci la tipa ha ruttato vabbè hello sette di dieci e non ho la chiave per aprire l'altra porta quindi ok perfetto mi servirebbe quella chiave mi servirebbe una chiave ok è andata a destra è andata a destra è andata a destra aaaaaa non è a destra e dammi sta chiave ho trovato 82 medkit ma non una chiave porco demonio ti sembra? no non ci credo non c'è il dribbling ma che è? ah sono vivo sono vivo attenzione sono vivo non so come oddio perché mi ha colpito solo una volta sono vivo sono in fin di vita ma sono vivo attenzione attenzione non è finita ancora lui si alza prende il medkit sono ancora in circolazione no sono morto no sono ancora in circolazione no è solo un culo ma fa tutto qua ecco qua se mi arriva la zia il rettilino mi fa un culo così eh te lo dico perché 8 di 10 come on dico mi fa un culo così perché con la padella me la lancia da un chilometro e mi piglia allora 8 di 10 va bene me ne mancano 2 ma la zia quanto ci mette ad arrivare di qua tanto? no me la prendo comoda col cazzo si dice in italiano è normale che fa rumore e quindi capisco da dove arriva maro dove che fa rumore dove che fa rumore la sento madonna negli altri cessi non c'è niente dove cacchio sta l'ultima pagina no mi sono infilato in un buco no non è vero non è vero no non è vero salve arrivederci è stato bello c'è ancora un meddito sicuramente però ancora ho preso 8 padellati in bocca da quando ho iniziato la partita però è un dettaglio cioè non fa niente sono infilato nell'unico punto dove non mi dovevo infilare è stato orribile però forse riesco a ciapare un meddito da qualche altra parte forse e vabbè però vabbè vabbè ma dammi porca vacca ma dammi un attimo 34 minuti sono stato se ci fosse stata l'avrei trovata fidatevi sono stato 34 minuti di run cioè impossibile che non ci fosse era veramente impossibile vabbè bello però launch lady che vuol dire ragazza pranzo arrivederci a Grazie a tutti.